Importanti novità, dopo l'allarme di settimana scorsa sulle spese mediche, le cure mediche che dovrebbero pagare i nostri frontalieri, abbiamo pensato di fare una mozione presentata da me al Senato e dal collega Giorgetti La Camera sulla questione dei frontalieri, che chiede di fatto al Governo di affrontare immediatamente la questione dei frontalieri in maniera completa. Il Governo ha fatto un accordo con la Confederazione elvetica fatta di numeri e non sulle persone. Benissimo la blacklist, bellissimo tutte le questioni che riguardano le questioni economiche, ma non dobbiamo mettere in secondo piano i nostri lavoratori frontalieri. Per cui con questa mozione chiediamo al Governo italiano di dar seguito a quella roadmap che era stata costruita con la Confederazione elvetica a favore dei nostri lavoratori frontalieri. E in ballo ci sono anche i ristorni per i comuni di frontiera e su questi potete star certi che noi vigileremo.